Intanto ho già richiesto le analisi della cassaforte, è uno stop test per entrambi, così... Comunque lo capisco, Tori. Non riuscire a dire quello che si prova deve essere... deve essere molto deludente. Ciao, so che non vuoi più vedermi, ma se stasera provassi a farti cambiare idea... Cioè, l'hai già detto che non la vuoi più vedere? Certo che ti stanchi in fretta, eh. Sbaglio o non ti interessava? Infatti non mi interessa. Però avevamo detto che avremmo messo tutto in stand-by fino alla chiusura del caso o mi ricordo male? Tutto? Tutto. Quando mai? Io e te siamo in pausa. Io e la bionda, no? Grazie. 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 Grazie.